Tutta l'Italia deve andare a combattere Se tutti restano a casa col culo caldo Allora quando inizia la parte bella? Quella dei missili nucleari Se no a cosa servono tutti questi preliminari? Quando tu inviti una signora Prima c'è aperitivo Poi cena Poi accompagni a casa Poi non è che fai il negoziato Poi tiri fuori il missile